...quale è? Forse ve la dirò la prossima volta. Tuttavia, ascoltate bene ciò che sto per dirvi. Prendiamo due persone sedute all'una accanto all'altra, esattamente nella stessa stanza, che apprendono gli stessi principi e le stesse strategie. Tuttavia, mentre l'una si avvarrà di tali strumenti per realizzare immediatamente il suo successo, cosa pensate accadrà alla persona che le sta accanto? Nulla di significativo. Ma l'altra avrà realizzato che questo è uno strumento grandioso, riponendolo nella sua cassetta degli attrezzi e comprendendo che la ricchezza e il successo non sono che un gioco interiore che coinvolgerà gli altri, mescolando i propri strumenti alle strategie altrui per ottenere un risultato comune. Mi seguite? A proposito di gioco interiore, quanti di voi conoscono quel fenomeno per il quale quando un milionario perde tutto il suo denaro, in generale accade che di via a poco lo recuperi interamente? Vi faccio un esempio. Conoscete Donald Trump? Lui ha perso molte volte il suo patrimonio per poi ricrearlo più copioso di prima, dopo soli due anni. Perché accade questo? Perché viene custodito l'ingrediente fondamentale del successo, ossia la mente. Milionaria, certo. Che tradotta in dollari è miliardaria. Ma voglio chiedere la vostra opinione. Perché Donald Trump non è semplicemente un milionario? Siete pronti? Come credete si sentirebbe Donald Trump solo con un milione di dollari? Certo, non se ne preoccuperebbe affatto. Avendo fiducia, ripetete, nella capacità di incrementare le sue finanze. Quindi voglio che con il dito scriviate la parola miliardario. Bene. Tuttavia, facendo sempre la stessa cosa, alcuni di voi attestano il loro credo sulle migliaia di dollari. Altri sulle centinaia. Ed infine, molti altri ancora, sul minimo, al di sotto dello zero. Ma così vi congenerete. Questo ci porta ad introdurre la psicologia della ricchezza. È importante che riconosciate di vivere in un mondo prospero, vero? Aiutatemi, portandomi degli esempi di opposti. Bianco e nero. Freddo e caldo. Avanti e indietro. Sinistra e destra. Su e giù. Ottimo. Se abbiamo il lato destro, possiamo avere al contempo anche il sinistro? Questi in realtà non sono che opposti che esistono in quanto tali. Vi sono molte persone, infatti, che non hanno successo e l'80% delle persone che non saranno mai finanziariamente libera come desidera e l'80% delle persone che non realizzeranno mai la vera felicità. E la ragione è molto semplice, in quanto la maggioranza delle persone abita principalmente il loro lato inconscio, vivendo ad un livello molto superficiale, basato unicamente sul mondo visibile, quindi su ciò che vedono. Vi faccio un esempio. Prendiamo quello che viene chiamato albero della vita, sul quale crescono dei frutti che rappresentano nella nostra vita i risultati che non amiamo. che per noi sono troppo esigui, le spese. E noi cosa facciamo? Tendiamo a focalizzare maggiormente la nostra attenzione su questo, dimenticando la cosa importante, cioè chi ha generato questi frutti. sono le radici, ciò che sta al di sotto della Terra, questo mondo invisibile da cui ha origine il visibile. Questo accade di rado o sempre? È proprio così, accade sempre. Vi pongo un'altra domanda. Questo accade o non accade in natura? Certo che accade. E voi non fate parte della natura? Quindi avviene lo stesso per noi. Molto bene. Una cosa importante e molto complessa che le persone devono comprendere è che il nostro mondo non è costituito da un solo piano, ma contemporaneamente da quattro piani. Il piano mentale, il piano emozionale, il piano spirituale e naturalmente il piano fisico-materiale. Ciò che le persone mancano di considerare è che il piano fisico-materiale e i risultati che otteniamo all'interno di esso non sono che la stampa dell'azione degli altri tre piani. Il piano fisico-materiale fornisce i frutti derivanti dalle radici rappresentate dagli altri piani, ossia è il risultato degli altri piani. Il piano fisico-materiale è ciò che si manifesta esteriormente, mentre gli altri tre piani sono la causa nascosta. Perciò esso rappresenta il mondo visibile contro gli altri piani che non sono che il mondo invisibile, causa del mondo visibile. Quindi, non concordate che il denaro in un mondo fisico-materiale non è altro che un risultato? I soldi, la ricchezza, la salute, il guadagno, il peso, sono tutti il risultato di qualcosa. Vi pongo allora questa domanda. A vostro avviso, la mancanza di denaro è un problema? Di fatto, non è mai e poi mai un problema, ma semplicemente il sintomo di ciò che sta al di sotto è il risultato di ciò che lo ha creato. L'unico modo di cambiare permanentemente, ripetetelo, il mondo esterno, è di cambiare voi stessi. Diamo enfasi a questo concetto, insieme, provando a pronunciarlo ad alta voce. Cosa intendo dire? Certo, grazie. Pronunceremo un'affermazione ad alta voce. Ma perché funziona? Addentriamoci in questo ambito, considerando che ogni cosa è costituita unicamente da energia. Ripetetelo. L'energia viaggia attraverso delle frequenze e delle vibrazioni. Quindi, pronunciando un'affermazione ad alta voce, lanciamo una vibrazione nell'universo e ponendo una mano sul petto possiamo sentire la vibrazione di questa affermazione penetrare ogni cellula del nostro corpo. Ma vedo già molti di voi dire «Oddio, questo mi sembra un po' strano!» E allora vi rispondo «Meglio risultare strani ma pieni di soldi che degli squattrinati in regola. Adesso alzatevi in piedi, così ci divertiamo un po'. Bel lavoro! Allora, mettete una mano sul petto. Il tuo, non quello della tua vicina. E semplicemente ripetete con me «È il mio mondo interiore a creare il mondo esteriore». Ancora una volta, più forte! Ora voltatevi verso il vostro vicino e guardandolo negli occhi battete un 5 e affermate «Tu hai una mente milionaria!» Bona nitrà idrà! Barona nitrà! Bona nitrà! многие notti один più darle nulli 裡面 channel